Di tutto di più, un cocktail inquietante, con molte conferme, la cocaina e alcune sorprese, le dinamiche di spaccio, che la dicono lunga, su come anche a Campobasso il mercato della droga non conosce crisi e continua a ammietere vittime. Un cancro lo ha definito il capo della procura Nicola D'Angelo per sintetizzare in due parole la gravità del fenomeno, che come accade a Scampia, ha contaminato interi nuclei familiari tra il dramma della dipendenza e la sfrontatezza dello spaccio. L'aspetto preoccupante è proprio questo, questa droga venduta in un'abitazione a poche centinaia di metri dal Palazzo di Giustizia, dal Comune, dalla sede della Regione, quindi una diffusione di droga assolutamente simile a queste realtà che lei ha citato, nulla di diverso purtroppo. Un fenomeno sempre esistito, ma che negli ultimi tempi è esploso in tutta la sua violenza, 40 misure in meno di 5 mesi, oltre 20 arresti, almeno 50 gli spacciatori individuati a Campobasso, supera il numero dei 200 quelli della provincia, marijuana, hashish, ma soprattutto eroina e cocaina. Questa è solo cocaina, sebbene nel corso delle perquisizioni è stata trovata circa 150 grammi di marijuana e il soggetto al quale era stata applicata la misura degli arresti omiciliari è stato anche arrestato, ma per il resto questo è uno spaccio di cocaina che coinvolge anche ragazzi di teneretà o comunque ragazzi molto piccoli che assistono in questa casa a queste cose. Fatta salva l'approssimazione per difetto dei numeri espressi per meglio rendere la gravità del fenomeno, resta la preoccupazione per uno spaccato sui consumi di stupefacenti a Campobasso e provincia che non accenna a diminuire, anzi urge aprire gli occhi su un mondo che adesso purtroppo appartiene a tutti senza alcuna distinzione di ceto sociale. È un'emergenza trasversale che poi a sua volta provoca tanti tanti problemi dalle violenze familiari, dalle violenze domestiche, furti, alle rapine e soprattutto come ho già detto e come magari dimostreremo prossimamente anche all'ingresso in Molise della criminalità organizzata quella certamente di spessore maggiore di quella che abbiamo incontrato oggi. Grazie.